www.musica.it Ciao a tutti ragazzi! Sono Lambo e Jacopino e siamo ancora su Doorwings Vai! Mi piacciono un casino i versi che fa con il salto Hoую la esperienza del giusto Eh, tiriamo la leva come al solito Ora dobbiamo tornarti ai 20 km per capire cosa ha Aspetta il secondo teppone! Uh! Daschè, questo non mi serve Va!! Perché tanto faccio tutto... cioè, facciamo tutto soli e senza bisogno di alcuni aiuti di pagine in altre lingue io ci devo dire no ci dobbiamo fare con i miei suoi non è difficile aspetta c'è una nuova sequenza allora è difficilissimo il simbolo astruso una volta loro due volte quello è la cosa non si muove sono stati stupiti infatti allora parte primo simbolo astruso l'amore soffi da quello man vai vai sopra vai sopra e dopo di avermi guardato quello santa scuola simbolo e l'orologio simbolo per favore che ha fatto un bucana ok c'è questa però due volte mi sembra simbolo il resto del senso è la seconda a forse è di là del no è una bocca l'orologio no ho fatto perchè mi mi chiedisci così ma è la sua presenza sulla fase se vai bu e ma buco sulla bocca allora non è così la strada due volte quello una volta quello due volte quello una volta l'orologio quel per fare il pdc il parlare ma va che gli avanti non ce n'è un no due volte ho il bocca guarda che c'è una cosa l'ha forchetta di qui non ci dovrebbe essere eh li allievi avanti che va che va forchetta due volte la forchetta e la gabbia poi il simbolo astrusio questo devi saltare prima di poco e di no che quanto la mondia nei tuoi per ora non ho capito c'è un orologio due volte pochettetta con la piappia non si no un'altra dimmi che sei più semplice questa volta e cosa c'è scrive aspetta non hai visto cosa sta dicendo ok ci vuole ma sono in filo ma si è cattivo ma si è cattivo dentro dov'è che ma si è cattivo dentro allora simbolo studio ok orologio orologio? perché non ti dici così eccolo la gabbia vai si si ce la faccio ora di nuovo e ora di nuovo questa yeah vaffanculo vorrei anche salutare oltre il pezzo mi si impari per il pezzo vabbè rischio il mio secondo nome e ci ho aperto un altro modo adesso dovresti aver spogato un po' qui ah già è vero siiii scusami ahahah 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 si stanno pestando ahahah stanno pestando stanno pestando di bollino di bollino ok vai adesso dove devi andare mi sembra che mi dice che devi tornare indietro non lo so si tipo come sempre ok nel buio non mi piace non mi piace ma vai non ti la cosa i remember i remember ok 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 mi interessa molto non scherzo cos'è che cosa è un cuscino ahahah 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 esplorando il corpo umano quante cose che scherzi bella bella mamma quanto duro stasso ok 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 hai fatto la struttura ahahah però non saltare non fare mosse vabbè 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 xiong simbolo una casetta e su Somebody Simulidormi me questo ma almeno io ho visto alcune miniature che anche un надо capta as un altro chiuso un giardino sapete se ci metti una bocca no, chiuso devo trovare chiave quindi poi ci sono piccola sei come è un horror no non è mai notte è giorno e andiamo a raccogliere fiori ah ok qua per forza c'è la chiave e qui per forza sboccherai ma che schifo mamma yeah ah eccola qua però ti devi provare a cominciare wow la chiave se provare se provare no no eh guardate noi stiamo uscendo eh hai capito ah ok ok eccoci ok allora quindi scusa storia via un'altra che c'è la hd di sto gioco se si può definire una hd vero e vero ma poche dobbiamo entrare in una cantina perchè l'abbiamo capito non posso da fare comunque ragazzi mi sto dicendo alquanto non voglio andare dietro, non voglio andare avanti per cui mi sei messo e quindi vado avanti ho più porgine di andare dietro quindi andavo avanti no, ma perché si sentono... addio che voi non avete dei conflitti dovreste sentire che i rumori invece si ce li hanno le buffe escono da... no dico voi due ok escono da questo gioco donne estuato non essenziali cura al 100% se ti dice una porta non so se la vedi è grossa non aveva non c'è un po' che amore molto probabilmente potrei salire tramite se per cui non devi usare controllo si deve non ma noi c'è altro no no se no 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 molla giù non salta no no maimo se тор corocio ma si fa così ma se che che si rispetto con il mondo guarda sera la stessa ma credo l'umbre l'intanto mentre siamo qui a alunque sensibilità bassa zio povero magliano stessi si non il lima zio magliano magliano e neanche questa strada un'esercizio mi stavano l'esercizio c'è l'esercizio bellissimo mamma mia io ho una mazza boom vogliamo le redini di te da macchini con un'opostana bella motocione è più buio di buncusimi del bunion buio non ho poi sud tu albis bisogno di me per vivere io mi fido di te oh, dici qualcosa poi te la gira cosa sta a tortura naturalmente è licido e metà buccello ecco esatto sì, mi sa a tortura e tu e che su qui lo sta succedendo questo qua è lo spappegame mi sa una volta che sono stato non posso dire che c'era questo giudizio posto per un uccello non è la strada dove si tratta non unico stile c'è un amore questo parma si deve dire che tutti spaccava la testa ma un altro mi sa che non faccio tutti mi sa che manca qualcosa mi sa che manca qualcosa aspetta ah, ti 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 faccio intorno alla testa eh, non è tutto non è tutto non è tutto allora faccio in un altro cazzo il cazzo il progetto il progetto il marxess sc sc questo è compatibile il suo su compagni questo è compatibile ora prova con il risultato da tecnici e giallo non c'è lo stesso questo piccino c'è un'altra cosa comunque c'è ragazzi oggi ho fatto un fatto accesso trovate di sicuro qualcosa è sicuro assicuri in bagno pinto il tuo titolo tuttora ed è che l'altro c'è un colpso se la prima scala con nessuno ha provato a riuscire un altro ma la maniglia non può essere questo un pezzo di maniglia il suo il perché ok il fatto che è un anche il primo porto fino a 2 minuti fa l'uso di torcia io ho detto tutto buio ora perchè è stato scelto giocciato buio per dopo aver visto una d o perchè se mi fanno no, non diamo su c questo sale un peccino il coso pianico con me la mano acqua ma questo schifo non si può lavorare se questo però mamma era il collo con gli altri con un collo non vuol dire che ne manca una che è questa qui è questa qui l'ultima sala perchè entro nel suo proposito chi è che è il suo capit capit il testo da youtube ciao ok va bene un attimo ti mancheranno ok scusate c'è un bagno eccesso ah ma no niente ma se non sarà di sicuro in quell'altro benissimo il bene c'è non posso immaginare non ho non ho perfetto non è un po' che ti avvicinare il città il città il città il carlo c'è quello di prima no ma va sì mi sa che c'è per me il città il città il città il città sei mi ci vuole qualcosa che si stavola mantenere no oma benissimo la siga io c'è niente qui guarda le altre scarafale anzi ecco lì c'è un esempio una cosa manicotto o il vibratore dei tempi passati di sicuro qui non c'è niente di questo che ti vuole metterlo là no non ci serve l'icolo buon c'è gente c'è la piscina se si può rimanere se c'è niente e non c'è bai ma loro sono sostanziali il punto quando c'è di cambiare nulla acquina e raccattato un po' di pezzi ma resta che riesce a far affrontare l'appogliamo con un colline di un mio perché l'altro il mondo fa da testa no no l'ha già provato se lo sentisci non c'è stessi niente niente il canzone niente di lanci la il suo peccino al soluzio in il 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 è il quindi 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 dammi un'aspirazione ci vuole anche pezzo ci vuole anche pezzi insieme a quella ah ma sai che forse è ragione se vuoi è pitto ok, io vado da pitto io vado da pitto allora ragazzi, secondo voi ci vuoi tre pezzi che c'è? per aver inventato quello c'è ah è noto, va bene scusate ci vuoi ragazzuoli dai mamma sei lento però zio povero allora proviamo a controllare dis qua a ste parti che qui non ci sia qualcosa è un po' storto sta stanzo tengo paura a entrare in questi posti io 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 e ma canta con me rieccomi hai ritrovato qualche cosa? no niente bella a tutti ragazzi minchia temporale oh raga noi ci salutiamo ci vediamo oh un altro pezzo di legno si e ci troviamo tra nel prossimo episodio ciao a tutti ciao ciao